Dando il benvenuto a Davide, che ringrazio tantissimo per la sua disponibilità, che intanto sistema i vari aggeggi. A Davide abbiamo chiesto di fare da voce narrante, insieme agli altri relatori di questa mattinata, di raccontarci una storia, una storia un po' particolare, che ci ha colpito perché è la storia di un sacerdote, della congregazione, Don Enrico Sciaccaluga. Davide poi ci racconterà chi è stato, che cosa ha fatto, dove ha vissuto. La cosa che ci ha colpito è che, siccome noi qui in questa sala siamo tutte persone che, volenti o non volenti, abbiamo a che fare con i numeri, e Don Enrico Sciaccaluga era un contabile prima di abbracciare la vita religiosa e ha scelto di lasciare questa vita nel secolo, una vita da professionista, da contabile, per diventare un religioso consacrato. Ci piaceva questo anello forte tra un uomo di numeri e un uomo di fede, un uomo che si occupava di contabilità e di amministrazione, nello stesso tempo di un sacerdote, e ci sembrava un ponte interessante, per cui abbiamo chiesto a Davide di fare un po' di ricerche e di raccontarci qualcosa di questa straordinaria figura. Grazie Davide. Grazie a voi, grazie a te Tommaso. Quando questa storia inizia, il nome è Enrico Sciaccaluga, laico. Sappiamo che è stato il primo direttore del Paverano, e quindi è un conforto pur irraggiungibile come modello per noi laici pensare che è stato un laico, il primo direttore del Paverano. E mi piace cominciare così, vedendo quella che è stata la storia. Io sono grato davvero al segretariato amministrativo perché mi ha costretto a conoscere bene Don Sciaccaluga e a raccontarvi qualcosa di quello che ho scoperto di lui e della sua vita. E mi piace cominciare così, dicendo che non tutti i giovani ricchi se ne vanno. Non tutti. Perché Enrico Sciaccaluga era proprio contabile, era giovane, famiglia agiata, e quando nel 1931 si offre, nasce questa collaborazione con Don Orione per tutte le sue opere genovesi, inizia anche evidentemente, lui aveva 34 anni, inizia evidentemente anche un discernimento, inizia un tormento, un'inquietudine nell'anima di Enrico. Il carteggio tra Don Orione e lui dice qualcosa di questa nascita della vocazione. Non è questo il tema di oggi, quindi non è su questo che mi soffermerò. Però le cose sostanzialmente sono andate proprio così. Per lui che era scout, capo scout, era dirigente dell'azione cattolica, parrocchia della Cella, a San Pier d'Arena, a Genova, e insomma aveva più o meno tutto quello che leggiamo nel Vangelo. Io tutte queste cose le ho fatte fin dall'infanzia. Nell'amicizia con Don Orione, Don Orione gli dice, gli scrive esattamente questo fondamentalmente. Guarda, una sola cosa ti manca. Vai, vendi tutto quello che hai, che non vuol dire necessariamente l'azienda del papà, ma vendi tutto quello che sei stato, tutto quello su cui basavi la tua vita, dai tutto al Signore e seguilo. Fai così e vedrai che è la strada per la tua felicità. In particolare questo passaggio lo voglio leggere. Don Orione gli scrive, è evidente che si scrivevano, e Enrico gli manifestava inquietudine, gli manifestava la ricerca della sua anima. In quanto alle tue debolezze, scrive Don Orione a Enrico Sciacaluga, in quanto le due debolezze e instabilità, ricorda che sei chiamato a farti religioso, non perché sei perfetto, ma perché Dio, con la grazia e gli aiuti della vita religiosa, ti chiama a diventarlo. E' l'invito di Gesù a seguirlo nella vita di perfezione, è una misericordia sua per la tua anima. Resta tranquillo, dunque, e metti la tua fiducia nel Signore, e guarda confidente alla Santa Vergine. Prego per te e ti conforto molto, e ti benedico con affetto in Gesù Cristo come Padre. Dopo questa lettera, il giovane contabile Enrico Sciacaluga lascia la sua brillante carriera, la sua numerosa e agiata famiglia, lascia tutto e segue Don Orione e Don Sterpi. Era nato a San Pier d'Arena il 21 novembre 1897. Dalla sua famiglia sono entrate in congregazione anche due sorelle, Suor Maria Lucina e Suor Maria Tarcisia. Gli studi, noto come contabile, perché aveva compiuto gli studi tecnico-commerciali nelle file dell'azione cattolica, come vi ho detto, era anche dirigente degli scout. In breve le tappe, proprio in sintesi della sua vita, poi le ripercorriamo entrando un pochino in alcuni aspetti. Allora, nel giugno del 1931 si offre come collaboratore di Don Orione per le sue opere a Genova. Nel 1932 lo troviamo a Salita Angeli, incaricato dell'educazione dei Tommasini. Dalle lettere si capisce che si sta già orientando verso il sacerdozio. Il 25 marzo del 1933 riceve l'abito da Don Orione e inizia lo studio della teologia sotto la guida del professor Don Carlo Chiesa. Nel 1933, come abbiamo detto, Don Orione gli affida la direzione del Paverano appena acquistato, 30 novembre del 1933. 34, studia teologia, fa il noviziato, il 13 settembre del 1935 la prima professione religiosa nelle mani di Don Sterpi. Viene ordinato sacerdote l'anno dopo, il 6 giugno del 1936. Rimane direttore del Paverano fino al 1945. Diremo poi qualcosa degli anni della guerra e di quello che ha fatto e che ha vissuto insieme ad altri confratelli nelle case di Genova, in particolare per l'aiuto agli ebrei perseguitati. Dal 1952 al 1969 è economo generale della congregazione, dal 69 al 75 per questo Sessegno è direttore del villaggio della Carità di Camaldoli. Dal 76 in avanti è vicario, sempre a Camaldoli e vive poi lì, resta in comunità a Camaldoli fino alla morte sopraggiunta il 15 novembre del 1992. Io ho chiesto e ringrazio qui, ho chiesto ad alcuni che l'hanno conosciuto perché mi interessava sapere anche proprio il tratto umano, la persona. E in particolare ho chiesto e ringrazio a Don Giorgio Murtas, a Rosetta Noè, che per noi di Paverano è una figura di famiglia, di casa, ed è la nipote di Don Enrico Sciaccaluga, e al nostro Vittorio Ortu dell'accoglienza del Paverano. Don Enrico viene raccontato, descritto come una persona fondamentalmente riservata, immediatamente non brillante ed espansiva, quindi una figura seria, determinata, ma nella quale l'elemento che appariva determinante era il sorriso, una grande affabilità, una grande cordialità, non di forma, ma che metteva immediatamente l'interlocutore in una dimensione familiare. Molto determinato e non molto alto di statura, Vittorio Ortu mi ha detto che era forse un filo più piccolo di me, quindi non era altissimo, non era altissimo Don Enrico, ecco. Su altri aspetti invece di quest'anima straordinaria, entriamo tra poco. Il punto chiave di questa vicenda, io non ho ancora deciso fino all'ultimo se partire dalle sue lettere, ma preferisco lasciar parlare lui e poi col tempo che ci sarà fare alcune considerazioni. prima lettera, ho scelto di fare questo, capite? Cioè non è una persona per la quale vai a leggere i libri che ha scritto o vai attraverso il carteggio, e ringrazio Don Vallauri per la giornata in archivio che ho passato questa estate, attraverso le sue lettere incredibilmente concrete e ne godremo e ci edificheranno, emerge pian piano il tratto di quest'uomo. Genova, 28 ottobre 1951, reverendissimo signor Don Sterpi, il giovane inviato per assistere i ragazzi durante l'assenza di Simeoni, dubito assai riesca a cavarsela, considerato che per la scuola Simeoni si assenta tutta la mattinata ad un'ora del pomeriggio, in tal modo i ragazzi per la maggior parte del tempo sono sotto l'assistenza di questo giovane che mi pare non abbia quell'autorità che sarebbe necessaria. Con grande delicatezza, con grande chiarezza emerge uno dei tratti che gli dura tutta la vita a Don Sciaccaluga, l'attenzione sempre allo scopo. Don Tarcisio ci ha appena ricordato come Don Orione fosse un uomo che vedeva il mondo con gli occhi della fede. Vedere il mondo con gli occhi della fede vuol dire avere sempre in controluce a ogni azione della giornata lo scopo. E questo ti può portare anche a posizioni a volte un po' impopolari, possono sembrare dure o comunque ad una certa assertività, ma accade a chi è acceso del fuoco verso lo scopo. ancora qui si parla di un altro sostituto, una persona che doveva sostituire un infermiere che era malato e Don Sciaccaluga scrive a Don Sterpi pare che le propor... ha saputo che avrebbero proposto a Don Sterpi una persona e dice pare le proporranno quel borghese alquanto affettato che non so se sia adatto vedrà lei. Intanto gliel'ha detto l'attenzione niente di politicamente corretto. In una lettera del 3 luglio del 37 in riferimento ad un certo Carlevaro perché le lettere adesso sarebbe bello proiettare le lettere sono sono piene di appunti i sacerdoti le conoscono tutto l'archivio dei nostri sacerdoti sono piene di 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 appunti note vado devo andare a vedere l'appartamento però poi ecco c'è questa persona che le deve sono delle lettere praticamente assomigliano ai nostri whatsapp di oggi perché si scrivevano tutti i giorni più volte al giorno da tante cose si vede che nella lettera di stamane le ho scritto che erano i whatsapp si scrivevano più volte al giorno dicendo di un certo Carlevaro dice a Don Sterpi l'ho mandato a casa perché non tratta bene e questo è l'appunto che abbiamo l'ho mandato a casa perché non tratta bene lo scopo abbiamo detto l'altra grande questione di Don Sciaccaluga che è chiarissima l'attenzione un uomo attento di un'attenzione pazzesca ai dettagli attenzione alle persone lo stiamo vedendo attenzione alle persone ma poverino il signore affettato ma poverino quello là il giovane che non sa tanto ma poverino questo Carle è poverino però le perle gli ospiti sono ciò di cui ho la responsabilità quindi se queste persone l'attenzione non solo alle persone stiamo per entrare nel mondo del fieno nel mondo dei materassi stiamo per entrare nel mondo che anche oggi tanti in questa sala conoscono bene e affrontano il fieno di Quezzi 21 giugno 1937 taglio del fieno reverendissimo signor Don Sterpi siamo in ritardo ovunque e se non si aumenta il personale chissà quando si finirà tassoni poi alquanto bisognoso di aiuto e io temo che finisca per ammalarsi ha tutta la campagna da badare e di più bisogna decidere per il fieno che ancora non ha cominciato a tagliare era il 21 giugno anche al bricchetto sarebbe bene darvi un colpetto ma per ora evidentemente non era successo niente perché poche settimane dopo il 7 luglio del 1937 parla ancora del fieno di Quezzi a Don Sterpi mi sento in dovere di spendere ancora qualche parola per il chierico Tassoni capite adesso io scherzo sul fieno ma gli stava a cuore questo chierico qui evidentemente non ce la faceva più era preoccupato veramente questo finisce con l'ammalarsi il chierico Tassoni che si trova di fronte a tenere di conto tutta la campagna e al taglio del fieno avendo in aiuto alcuni buoni figli oggi avrebbe José o qualche nostro grande amico e per di più poco validi se credesse di mandare qualcuno capace e di salute sarebbe proprio una provvidenza l'attenzione è chiaro che qui era il chierico non era il fieno la questione stanchissimo l'attenzione a quelli che rischiamo di non vedere più e chiamare dettagli e dettagli non sono Genova 8 novembre 1936 reverendissimo signor Don Sterpi la superiore di Salita Angeli continua a insistere per avere uno che assista i buoni figli più grandi adulti era gente di 14 15 anni adulti però erano ragazzi veramente bisognerebbe proprio poterle dare uno che avesse cura di tali ricoverati e badasse anche un po' gli uomini so che è in carico difficile non gradito ai più ma è proprio una questione vitale bisogna attenzione bisogna pure pensare ad un portinaio Valentino è un buon ricoverato e nulla più la porta è sempre aperta e i topi se ne vanno e qualche peggio si finisce per ritornare ai tempi tanto deprecati nei quali ognuno usciva a piacimento senza darne conto anche per questo ufficio so che è molto difficile trovare chi mettervi ma d'altra parte occorre pure trovare una soluzione mi convinco sempre di più che il portinaio è la persona più importante della casa qui abbiamo capito perché lo sta dicendo noi a Genova abbiamo il Fon Power che è un'opera che c'è perché quella notte di pioggia il barone Fon Power evidentemente ha trovato qualcuno che è un buon portinaio il portinaio se no la storia sarebbe andata diversamente Genova 11 novembre 1936 sempre su Salita Angeli circa i letti per i buoni figli sempre scrive a Don Sterpi mi pare che siano in condizioni tali da non poter oltredurare mezzi sfasciati con materassi in parte marciti farli riparare si potrebbe ma penso che per riparazione verniciatura si finirebbe per spendere più che a farli fare nuovi non potrebbe il signor Bianchi comandarne una dozzina alla ditta Frassinelli di Alessandria già che va lassù domani forse tenuto conto di tutto si finirà per avere con una spesa di poco superiore alla riparazione verniciatura dei letti un poco più decenti inoltre vorrei sentire da lei se non credesse di preparare con la chiesa ultimata anche la corsia dei buoni figli e di invitare qualcuno dei nostri benefattori a inaugurare la corsia per l'immacolata per l'8 dicembre per quella data o comunque che crederà lei questo le dico perché vorrei che i nostri benefattori si convincessero che anche a tali infelici viene dato il mezzo di sistemarsi in locali decenti e puliti forse purtroppo hanno avuto l'impressione che a salitangeli i buoni figli siano troppo trascurati e non hanno avuto del tutto torto ma per completare la cosa è bene che Castagna faccia un sacrificio sia dia dia a salitangeli il chiericolingua il quale io penso farà bene con i buoni figli guardate la visione di sistema che emerge beh che a Genova siamo abituati tutte le case guardate la visione di sistema cosa mette in piedi cosa dice non sterbi faccia un sacrificio dia il chiericolingua a salita a angeli il quale io penso farà bene con i buoni figli adulti e con i vecchi e potrà anche avere durante il giorno qualche ora di scuola dai chierici teologi i quali avranno così modo di esplicare una qualche attività che cosa le pare io direi che la madonna immacolata vedrà volentieri che per la sua festa sistemiamo in modo conveniente i più infelici nostri ricoverati le perle della piccola casa e del piccolo cottolengo se è d'accordo su quanto sopra poi torna ai materassi ad Alessandro se è d'accordo su quanto sopra dia istruzioni al signor Bianchi che vedrò domani a luna e minuti pomeridiane a Tortona per recarmi con lui a Milano se facciamo in tempo andiamo a Corso Torino a vedere quell'appartamento ecco questo era la loro vita la loro giornata la loro giornata quotidiana l'ho letto un po' per intero questo pezzetto di lettera perché è evidente che c'è dentro tutto un sistema cioè sciaccaluga contabile uomo di numeri e di soldi uomo di fieno di chierici morti di buoni figli morti di stanchezza di buoni figli che i benefattori non erano tanto contenti effettivamente un po' ci hanno ragione uomo di perle e perle della piccola casa del piccolo cottolengo cosa c'entrano i materassi con vedere il mondo con gli occhi di Dio eccolo qui è chiarissimo che cosa c'entra questo non lo leggiamo inizi di accreditamento poi ve lo farò vedere una storia degli anni 30 eccolo qui ancora sui buoni figli qui emerge il dilemma tra nelle scelte buoni figli vi sono molte domande di buoni figli già adulti oltre i 14-15 anni forse si potrebbe fare qualche posticino a Castagna ma come mandarli là in una casa dove manca quella guida esperta che dà quel senso di tranquillità che sarebbe necessario è proprio non si sa come fare il dilemma proprio non si sa come fare dov'è il dilemma perché da un lato pare anche di fronte ai benefattori che non si voglia a volte lo diciamo bisogna dare un segno bisogna far vedere che facciamo qualcosa però avendo sempre tutta la sua vita ha avuto in mente sempre lo scopo dice si ho capito facciamo vedere che facciamo qualcosa ma se passiamo dalla padella alla braccia evidentemente c'era una situazione a Castagna non c'era una guida esperta proprio non si sa come fare perché da un lato anche di fronte ai benefattori che pare non si voglia fare niente ma dall'altro bisogna che il ricovero sia proficuo alla persona e non dannoso a tutta la comunità il dilemma sullo scopo il il ecco Fabrizio tieniti pronto un esempio di attenzione alla selezione del personale il commendatore delle piane aveva presentato i documenti di un certo Romuli Italo di anni 64 operaio specialista in pianoforti che pare si adatterebbe anche a lavori di falegnameria e Don Schackeluga scrive a Don Sterpi però nulla si sa all'infuori dei documenti che parlano della capacità di lavoratore punto non so se sia bene interessarsi della cosa senza avere ulteriori notizie tanto più che il suddetto ha vissuto alquanto all'estero l'attenzione l'ultime due credo cosa intendeva Schackeluga quando diceva la parola provvidenza noi pensiamo subito ai soldi ed effettivamente certo che i soldi sono se Teresa Davila diceva io non sono niente io e Gesù facciamo tantissimo io Gesù e i soldi facciamo tutto lo diceva Santa Teresa Davila è chiaro che la provvidenza sicuramente centra i mezzi e le risorse ma ascoltate cosa pensava Schackeluga quando diceva provvidenza reverendissimo signor Don Sterpi 9 gennaio del 37 salita angeli oggi è stato ammesso quel buon figlio di massa propostoci dalla provincia monima e con retta suo carico è proprio da Cottolengo non parla ne capisce ha nove anni e ne dimostra quattro è proprio dei nostri Deo Grazias in quest'altra da notizie di Suor Stanisla sta meglio si sente meglio ma naturalmente è ancora a letto e poi scrive a Don Sterpi oggi la provvidenza ci ha mandato una poveretta gobba paralizzata alle gambe che cammina facendosi forza sulle braccia Deo Grazias la provvidenza se ci manda queste persone ci vuol bene c'è la provvidenza la c'è la provvidenza allora mi rimangono mi sembra dieci minuti queste non le leggiamo allora qualche considerazione magari condividiamo insieme il primo punto che mi sembra evidente a questo ragazzo di brillante contento scout azione cattolica agiato la sua vita genovese via dicendo è che è un incontro che ti cambia la vita è un incontro non qualsiasi incontro ti cambia la vita un incontro ti cambia la vita quando questo incontro evidentemente è portatore di qualcun altro è portatore di una presenza quello che è successo a Enrico Sciaccaluga incontrando Don Orione e tutta la vita gli re cioè lui rimane proprio folgorato da Don Orione è proprio fulminato folgorato si innamora non ha smesso di guardarlo tutta la vita non è un caso perché lo sapete che grazie ha chiesto Don Sciaccaluga sapete che il sacerdote quando viene ordinato chiede una grazia particolare e Sciaccaluga ha chiesto qui è l'altro la prima messa e va bene ha chiesto me lo ricordo ha chiesto che Dio conservasse il più a lungo possibile Don Orione e Don Sterpi alla guida della congregazione per poter permettere alla congregazione di raggiungere tutto il mondo e di portare Cristo in tutto il mondo dice proprio questo modo quindi la questione dell'incontro decisiva tutta la vita gli resta questo amore filiale per Don Orione padre padre suo padre proprio è proprio vero che siamo le persone che incontriamo la nostra vita siamo così per una serie di incontri di persone che abbiamo fatto nella nostra vita quello che è successo a Sciaccaluga e siamo anche quello che guardiamo uno diventa occhio a che cosa guardiamo quali modelli o che cosa ci affascino che cosa guardiamo perché diventi ciò che guardi tutta la vita Don Orione è stato il suo modello un modello non come per noi ancora più cioè perché ci ha vissuto insieme cioè vivere con un santo gomito a gomito fianco a fianco poi vediamo due foto è proprio non è un modello astratto intellettuale spirituale al quale ti adegui è proprio stare con lui cioè quando succede questa cosa si ripete quello che è successo agli apostoli con Gesù cioè tu stai tu stai con una persona vivi con lui e il modello è la sua persona stessa e l'altro punto fondamentale di Don Chacoluga che è evidente è questo qui la preghiera uomo di preghiera preghiera vigile discreta continua e il modello che ha avuto tutta la vita e i due rivoli scaturiti dalla sua preghiera dalla vita di preghiera questo insisto perché altrimenti noi rischiamo di pensare che tutte queste persone del passato siano stati dei giganti e noi eh vabbè confronto a loro non è così il giacimento umano che permette di fare cose grandi è dentro ognuno di noi solo che non si può relativizzare la preghiera non si può relativizzare l'essere uniti al Signore non si può relativizzare la vita di grazia l'aiuto della grazia come qualcosa che vabbè sì se c'è c'è se no l'importante perché ci ha appena detto Don Tarcisio si cade nel volontarismo nel doverismo si cade nel moralismo si cade in tutt'altro i due rivoli che scaturiscono sono l'attenzione alla persona l'avete visto emergere da qualche brandello un'attenzione alla persona impressionante e chiuderò con una lettera che gli scrivono sul periodo di aiuto agli ebrei che è su questa attenzione alla persona e poi questa cosa fondamentale dell'avere sempre in ogni attività in ogni azione della giornata in ogni scelta sempre tutto in controluce con lo scopo là davanti che rapporto c'è nelle nostre organizzazioni tra la nostra attività quello che facciamo e lo scopo per cui esse sono state fondate e noi già pensando che lo scopo non è l'assistenza socio-sanitaria piuttosto che la formazione professionale piuttosto che e pensando che lo scopo è la relazione di cura e di aiuto alla persona già abbiamo fatto un passo avanti ma Don Tarcisio e Don Orione ci hanno appena ricordato che lo scopo è un altro ancora che lo scopo è la fede che lo scopo è annunciare Cristo evangelizzare che è la più grande carità quindi questo è lo scopo ma che rapporto c'è tra l'azione amministrativa le cose concrete di ogni giorno e questo scopo sciaccaluga questo dilemma questo struggimento con una grande pacatezza con una grande pacatezza Vittorio mi ha autorizzato a raccontarvi questo episodio e quindi è un inedito Don Sciaccaluga quando era economo generale dice che i consiglieri generali mi ha detto Vittorio giravano tantissimo visitavano tutte le case ci sono delle foto con Don Pensa su qualche rio in Sud America ci sono erano dei viaggiatori instancabili ma quando passava da Paverano passava sempre anche da Vittorio e voleva essere non chiedeva come va non gli chiedeva allora come andiamo come va si sedeva lì e gli chiedeva mi dica come va l'ufficio mi dica tutto quello che fa gli ho detto tipo visita canonica in qualche modo no? sì 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 ma lo faceva spesso tutte le volte che passava e Vittorio gli raccontava tutte le cose che faceva che seguiva le pratiche entrando nei dettagli era economo generale entrando nei dettagli a un certo punto Vittorio gli dice in particolare di una situazione e di come la si sta affrontando al Paverano che afferisce all'andare incontro proprio ai poveri più poveri eccetera Sciaccaluga si illumina e dice bravi ah bra che bene 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 va bene continuate così Vittorio chi lo conosce si immagina la scena gli dice certo continuiamo così fino a quando i direttori lo vorranno fino a quando ce lo lasciano fare andremo avanti così e Sciaccaluga si china leggermente e dice anche se non vorranno voi andate avanti così andate avanti così e Vittorio di risposta alla faccia dell'obbedienza e Sciaccaluga dice che gli è partita una risata proprio si è messo la risata alla faccia dell'obbedienza Vittorio che rimproverava l'economo generale e Sciaccaluga ha riso proprio una grande risata eccetera eccetera ma chiudendo la risata ha detto continuate così allora il rapporto tra attività e scopo taglio un po' di cose ancora 4 minuti allora quando nella lettera del 13 aprile del 35 Don Orione dice ve la ricordate niente che somiglia a un'amministrazione la conclusione di Don Tarcisio sembrava avere questo come titolo come sottotitolo niente che somiglia a un'amministrazione com'è sta cosa? dice qui addirittura c'è un convegno non intende certo fare l'elogio Don Orione di un sentimentale pressapochismo e non intende certo sconfessare la necessaria professionalità quando Don Orione scrive e niente che somiglia a un'amministrazione intende forse proprio che se l'amministrazione che è un servizio voi permettete agli altri di fare il loro lavoro l'amministrazione è un servizio se l'amministrazione si disallinea con lo scopo e serve solo se stessa se diventasse autoreferenziale è un bel guaio ecco Don Shackalug è stato proprio un esempio vivente di questa ricerca continua di allineamento con le lettere tra attività le attività le cose di ogni giorno e lo scopo un esempio per entrare nel concreto e poi chiudiamo leggiamo la lettera vado via velocemente un esempio di necessario allineamento tra la gestione di un servizio e il perseguimento dello scopo prendiamo gestione del servizio la gestione del personale lo scopo lo sappiamo già appena detto Don Tarcisio è il mezzo attraverso il quale raggiungere lo scopo annunciare Cristo la cura degli ospiti certo che non sia necessario non dedico che un cenno al fatto che la gestione del personale in un'organizzazione di aiuto e di cura alle persone fragili debba avere alcune specificità sue proprie che la differenziano dalla gestione del personale in organizzazioni di altro tipo dopo Don Orione dopo Don Sciaccaluga dopo Suor Plautilla nei decenni successivi a chi la congregazione affida la cura? Chi sono oggi il cuore gli occhi le mani di Don Orione? a chi oggi affide i suoi poveri i suoi ultimi i suoi desamparados? L'elenco sarebbe lungo pensiamo tutte le professionalità tutte che ci sono nelle nostre case ma se le perle di Don Orione il tesoro inestimabile della Chiesa è oggi affidato a tanti collaboratori laici quale cura di essi bisogna porre in essere? e allora diventa decisiva ad esempio nella gestione del personale una attenzione che non può che essere sempre più crescente alla questione unita della valutazione del personale e del benessere lavorativo in qualche modo cura lo diciamo con slogan perché è finito il tempo avere cura di chi cura in qualche modo ecco un esempio concreto di relazione tra attività che devo fare nelle case ma sempre guardando qual è lo scopo sto gestendo quelle che chiamiamo risorse umane ma che la loro vita giorno e notte è lì a curare e ad assistere e a vivere insieme ai nostri ospiti il tempo è finito vi leggo ed è la conclusione una lettera che Monsignor Francesco Repetto di Genova scrive nel 1983 morirà un anno dopo Francesco Repetto un sacerdote genovese che ha ricevuto la medaglia dei giusti tra le nazioni dallo Yad Fashem dente nazionale per la memoria della Shoah di Israele e è evidente che fa riferimento ad anni in cui ha lavorato per salvare la vita agli ebrei fianco a fianco a Paverano e a Camaldoli e in altre case di Genova con Don Shacaluga molto reverento e caro Don Shacaluga la ringrazio di cuore per avermi consentito di leggere la bozza dell'articolo insomma l'inizio della lettera è questo una delle innumerevoli opere di carità che gli Orionini hanno compiuto nel mondo in questo secolo che li ha visti sorgere e nella città di Genova mi piace chiamarli Orionini il nome è di un grande e il diminutivo aleggia la semplicità e la mitezza dei discepoli l'impresa di Cugliella con parole discrete fissa la memoria salvare gli ebrei fu quella di una carità che era preparata e pronta ad ogni rischio il Chierico Carminati ci ha lasciato le penne ha dato la vita mitragliato a Isola Sant'Antonio mentre portava gli aiuti o li andava a prendere eccetera io mi permetto di aggiungere una testimonianza che quel servizio di carità degli Orionini fu costante per quanto durarono gli interminabili mesi di terrore e del tutto disinteressato attenzione fu soprattutto di una gentilezza squisita e uno dice vabbè cioè già salvi la vita dai dai andiamo cioè no fu soprattutto di una gentilezza squisita ricordo sentite proprio di prima mano perché lui era lì con Chacalù ricordo che quando con una certa perplessità sia per il poricolo cui si esponevano le case del piccolo cotolengo genovese sia perché avevano già accolto parecchi rifugiati quindi con una certa perplessità io io Don Francesco venivo a chiedere a lei sciaccaluga allora direttore del paverano un caldo nascondiglio per i trepidanti fuggiaschi lei con un cenno cortese immediato naturale mi rispondeva sempre di sì senza provare insofferenza senza imporre scadenze senza chiedere garanzie ricordo infine che a quegli innocenti perseguitati a morte lei dava non soltanto le pareti di una stanza nascosta ma la sua riconfortante compagnia cioè Don Francesco si ricorda che quando veniva sera o in certi momenti eccetera sciaccaluga prendeva andava là dove erano nascosti se dice così e stava con loro penso che sia la conclusione migliore grazie a tutti grazie